Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa piccola video guida che vi spiega come disattivare una funzionalità che è appena stata introdotta su Firefox 114 che è stato testè e rilasciato, una funzionalità che a mio avviso Mozilla si poteva anche risparmiare di integrare all'interno del browser perché è una funzionalità che fa molto spam, fa molto Microsoft Edge, non so se avete presente Microsoft Edge che vi mostra nell'home page, nella schermata principale del browser una serie di contenuti provenienti dalla sua piattaforma quindi MSN e quant'altro, di articoli di varia natura, bene, adesso Firefox anche lì inizierà a mostrarvi questi contenuti andiamo a vedere il changelong, andiamo a vedere qual è la funzionalità incriminata, è questa qui che troviamo sotto sotto, Pocket recommend, contenuti raccomandati da Pocket che adesso sono visibili in Francia, Italia e Spagna quindi significa che adesso, ogni qualvolta noi andremo a vedere la schermata principale, quella di Firefox con Page quella che utilizziamo normalmente appena parte il browser ma anche nel caso di apertura di nuova scheda oltre ai collegamenti rapidi, con i soliti collegamenti sponsoritati, visto che qui per esempio di default vi appare anche Amazon e altre cose che appena installate Firefox bene, adesso vi vengono mostrati come vi dicevo anche gli articoli consigliati da Pocket che sono articoli da una svariata universo di siti poi non sono manco personalizzati perché praticamente li butta a cavolo vedete Vita, Vita.it, Vanity Fair, Cibo Today cose assolutamente a caso e io francamente di vedere tutta una serie di articoli sponsorizzati qui non li voglio vedere, cioè mi danno fastidio so che magari può essere un'entrata economica per Firefox ma preferisco a questo punto supportare direttamente con una donazione Firefox e non vedere tutte queste pubblicità spammone disattivare, disattivare è semplicissimo, basterà andare sul menu hamburger e andare nelle impostazioni nelle impostazioni cerchiamo poi nella sezione pagina iniziale e andiamo a togliere la spunta consigliati da Pocket ecco lì, finalmente sono spariti, torna la vecchia home page, quella bella carina di Firefox niente più spam e tutti felici e contenti io vi ripeto, non so, sì sì, non so quant'è il guadagno che c'è da un'operazione del genere però trovo una cosa molto fastidiosa a proporre una cosa del genere a tutti quanti gli utenti che magari adesso si ritrova e dice ma che è successo? magari gli venne in mente, ma che ho installato per caso qualche estensione di quelle che capitava quando nella vecchia era dell'internet che uno si ritrovava che metteva estensione e si ritrovava con pubblicità da tutte le parti all'interno del browser e dice che siamo tornati nel passato invece no, è proprio Mozilla che vi butta la pubblicità nel browser fatemi sapere voi che cosa ne pensate se continuate a preferire o meglio, se continuate a utilizzare la vecchia schermata, quella classica o se non vi danno fastidio a voi tutti questi contenuti sponsorizzati a me danno molto fastidio perché semplicemente sono articoli di cose anche che non mi interessano quindi perché mi devo sorbire ogni volta tutto questo patatrack di roba è una cosa non voluta avrebbero dovuto magari mettere un pop-up che ti avvisava che cosa vuoi fare, vuoi tenere abilitati o vuoi disabilitare quella sarebbe stata una scelta sensata ma no, che te li trovani di default sul browser non mi piace sta soluzione mannaggia a te Firefox, mannaggia a te Mozilla, anzi va bene, chiedo scusa per aver girato i video su Windows ma stavo lavorando quindi se siete il lettore di Marcosbox e mi seguite per i contenuti su Linux abbiate pietà ma stavo lavorando su Windows se non potevo riavviare ho fatto un video al volo lunga vita e prosperità a tutti quanti ciao ciao grazie a tutti